e si inizia la corsa il corrido il destino sarà dalla nostra parte guerrieri non ne avrò mai questo è il tuo cammino eh già ero the champion una partita prima dei ragazzi che erano dei pazzi dei fottuti pazzi correvano per tutto ogni cosa che vedevano correvano dietro gli sparavano era davvero bravo se dopo usavano qualcosa di spano ci siamo due più bravi se no sarò bravo io per loro ah un buco dentro mamma mia c'è anche un'altra arma che non c'è ok qui c'è un maturatore per shotgun 3040 repeater da questa parte prima vittima 4040 repeater da questa parte qui c'è un flatline qui c'è un caricatore pesante esteso livello 3 eh dio eh già ho bisogno di munizioni per cecchino mi serve un calcio per cecchino qui c'è un caricatore esteso per cecchino mi hai notato qui c'è roba di cecchino bella questa scelta di mettere i cecchino sciogluto nella posizione dove non si prepara qui c'è un caricatore pesante esteso livello 3 ah cos'è che hanno messo zaino e un sullatore mmm mi piace arrivo da voi amici mi piace ah 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 posso passare anche da qua sotto pipì vedo che c'era qua dentro mmm un trappone 3 2 4 emozioni pesanti yes pesanti 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 muuuuut pesanti 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 Amici Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Andate pure, ma non abbassate la guardia Stiamo andando tutta altra parte raga Non ha un cazzo di senso andare dall'altra parte Ormai siamo noi, piuttosto andiamo su Se volete proprio fightare, sparare Boom, boom, boom Questo sta fermo A me sta portando la paura Ok, se muove Posso tornare dall'altra segna? Per favore Per favore Mi prego Per il kit medico Sarei felice Perché stiamo andando Così in giro Ma che cazzo di senso ha? E mi arriva Eh va bene Ricarica scudo in porto Qui c'è un otturatore per shotgun Livello 2 Qui c'è una batteria a scudo Faccio una pausa Devo darmi una sistemata Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi Ah, mi ricero ci fai già posto Per dio No, ma si sparano porca buttana si do lo schianto classico è un classico c'è un caricatore energetico esteso qui livello 4 no grazie guarda è un oro volentieri di cecchino però oppure di di sacco di merda un sacco di sterco balbettante ma andiamo in safe no potrebbe esserci qualcosa da questa parte non possiamo andare in safe dai ragazzi andiamo in safe mamma mia andiamo in safe da dietro non devo stare più a perdere punti per cazzate cazzo di senso ha a passare di qua dove cazzo sta andando? che cazzo fanno sti guardi? andiamo da questa parte ma perchè? eh ho capito capito ne dico individuato che cazzo fanno che cazzo fanno che cazzo fanno che cazzo fanno come col te bitch ah scopato povero cucciolo te vo' te che non perdono una fega no non volevo volare porca eh no non volevo volare volte mastic per potenza si peccato che era uno degli ultimi rimasti ed è morto si concordo non so che c'è un nemico non amo neanche passati qua passavano da dietro che cazzo ma si deve passare in mezzo 8.000 squadre così per puro divertimento c'era un cazzo di senso forse sta giocata così è che la cazzo che ti spacco il culo arriva un altro adesso che facciamo è che scelta del cazzo è che potuta scelta del cazzo io ho rotto ancora lo scudo con lo stronto e grazie al cazzo eh passiamo in mezzo ma dove cazzo state andando ragazzi ma che cazzo di scelta di merda è no vabbè incredibile cioè ci siamo complicati la vita cioè questa qua è proprio una complicarsi la vita completamente eh sei morta amica cazzo che ti dica orco dio si stanno sparando perché siete di fottuti imbecilli perché dobbiamo per forza andare di là dobbiamo fare 8.000 persone che ci scopano perché è giusto così testa di cazzo no non mi è piaciuto per niente eh vabbè eh vostre idee del cazzo che sono le vostre idee del cazzo spacco tutto dio cazzo ah no è detto che si sparare questo è un sentinel che spara bene un nemico solo mi sembra strano ho bisogno di munizioni eh ho sbagliato mi servono degli scudi ho sei batterie vecchio tutte e sei sono sparite mi è rimasta una abbiamo un nuovo leader uccisione nuovo leader uccisione fate attenzione bersaglio laggiù mi sto curando guarda ti stai curando io cosa faccio eh cosa faccio brutta strada di merda dobbiamo sparare 8.000 squadre eh qui c'è una batteria scudi bravo bravo già un passo avanti mi sei più simpatico mi servono degli scudi eh grazie anche a me mi servono degli scudi ne ho due poi le vostre idee di andare a sparare a 4.000 persone poi dobbiamo scappare perché siete tutti deficienti cioè eravamo tranquilli per andare alla nostra safe fare il giro tranquillo easy ok ho fatto 3 assist e una kill loro avranno fatto 3 kill per amore del cielo cazzo ma siamo rimasti in 2 io ho 2 batterie a lui gli siamo noi scudi che cazzo eh no perché abbiamo sparato tutto quello che abbiamo visto poi la gente qua era già posizionata questa fa in portale il portale non è una buona idea cosa per niente 4 nemici porca puttana c'è un nemico che viene mai qua sopra c'è uno scudo no minchia c'è anche un caustic siamo fettuti no no questo è del dire proprio mai regio cioè ci siamo essi malissimo eh grazie per forza si chiude lì l'anello finchia sei proprio simpatico 5 nemici eh scossa 10 secondi l'anello è vicino attenzione l'anello si sta muovendo guerrieri si trova una raccia di 2x2 no mi preoccupa me sono qua parco dio sarà dura vecchio questa sarà difficile che la vinciamo di dubbi però sta bene non posso riusciremo a buttare a terra qualcuno uccide l'anello sto stabilendo un contatto con il ricercato contatto con bersaglio rimani un minuto proprio qui l'anello cazzo stai versando eeeh c'è uno dietro eeeh vabbè due squadre che sparano a chi? a noi che siamo in mezzo loro ci circondano porco di più 64 easy easy mi c'ha più 64 easy easy semplice facile e passabile la merda porco dio perché? perché dobbiamo andare dentro nell'anello fare tutto il giro al contrario per fare 3 assist e 1 kill rimanere in 2 nella merda senza scudi e senza un riparo a questo sì che divertimento ma pesante scarsone e punti ho fatti mi avessero ascoltato di andare dall'altra parte magari sarebbe stato diverso magari vanno già posizionati meglio non avevamo fatto tutti queste kill però magari potremmo arrivare anche secondi o primi insomma lavoro duro bella vittoria potrebbe vivere facile polvere da sparo odora di vittoria io non piacerebbe vivere facile credono ancora che questo sia un gioco poveri illusi ho le stesse più uccisioni di questi due messe assieme che pensa 800 e passo uccisioni questi qua uno è a 500 l'altro a 130 o 140 te pensi eh sia eh sia differenza che con blowdown gli assist li prendono mai 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 perché perché ce li spariamo a vicenda se riprendo riprendo per il radar magari scendi anche amico 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 oh porco dio ma scendi giù c'è la squadra di master dove andiamo andiamo qua andiamo alla fine dell'anello per scendere giù inficchiata come dice tutti idioti in ritardo e senza l'armi inficchia voi avete proprio studiato voi avete proprio studiato tra l'altro tutti e due mi passano da me ma fatemi un po' di cazzo i vostri grazie a cazzo si è in un posto di merda oh non prendo il volo e là c'è gente ve lo dico tanto per chiarire il fatto che io non ho uno scudo non ho davvero uno scudo e non essere scarso eh no però non c'è proprio un cazzo ah ma stava piglio io metta fanculo adesso c'è lo scudo blu eh io sono scarso eh c'è lo scudo blu io ho lo scudo blu sto controllando i dintorni e infatti c'è arrivato a zattino 1 perchè sono senza mani qui c'è un caricatore al zero esteso livello 3 c'è una buona base di fuoco ho trovato un caricatore energetico esteso livello 3 mio questo mi serve adesso che facciamo siamo in un posto di merda ho un elstar e una wind avete idea eh wind si manca l'elstar non c'è un problema porco dio ah no scusa non c'è più gioco ah 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 non lo usi è inutile quindi non ce l'hai sto controllando i dintorni arriva arriva platino 1 dopo ne parleremo no non ci sei arrivato nei tuoi sogni forse c'è un nemico qui c'è un nemico qui sparate sparate ai nemici visto che mi stanno sparando magari eh vabbè eh vabbè allora non avete proprio capito un cazzo dalla vita non avete proprio capito un cazzo sono scappati completamente mi hanno lasciato da solo io mi spammo x platino 4 e platino 1 che scappano abbiamo compagnia gente c'è un platino 1 ah si l'ha detto da te solo un complimento un platino 1 non si farà bella squadra solo visto che gli avversari sono platino non sono gente che spara a cazzo di cane primo secondo a differenza tua quel gioco qua è serio ma come conto qua si spari devi sempre sparare non spari a caso oh guarda l'ho ucciso a caso bastava che mi coprivano mi curo e dopo gli sparavo anch'io no troppo difficile no no hanno sparato un cazzo sono scappati punto sono dei conigli questo si chiama essere conigli a casa mia ah no è vero è vero te non capisci un cazzo di come sei sparato scusa e questi sono anche questi sono anche un club questi sono anche un club io sono arrivato platino da solo sì sì no 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 perché tre kill le ho fatte difficile che abbia sparato male tre kill le ho fatte tre kill le ho fatte quello che dovevo fare ho detto per tutte le cose che dici così per me è un complimento questo aveva anche un lombo vabbè io non ho capito io non ho veramente parole questo aveva anche un lombo poteva coprirmi completamente poteva coprirmi completamente zero zero ma stavi sparando due colpi due o tre colpi il tempo che mi mettevo al riparo mi coprivo mi curavo appena mi giravo con la wimba un figlio che gli scioglievo no questi sono scappati questi sono completamente scappati e stiamo parlando stiamo parlando di un revenant quindi poteva tirare il totem e assaltarli completamente stiamo parlando di una bungalow che ha tirato la super due fumi solo per scappare per i cazzi suoi questa è la mia squadra sono completamente scappati erano fattibili eh sti nemici erano fattibili perché non sapevamo sparare mi hanno sparato in tre vecchio e in tre mi hanno tolto solo lo scudo dopo mi ero sparato di nuovo e naturalmente sono andato a terra ma in tre mi hanno tolto lo scudo in tre questi qua sono scappati completamente bastava che mi coprivano cazzo sto a parlare con te diokane che non sai neanche fare due colpi per quattro colpi figa ma stai zitto dio porco 84 84 diokane te ti spari gli zombie figa ma gioco di merda figa ovviamente il classico ah ah tutto trovano che roba questo cos'è che non fa vedere ero 301 ah tutte e due i cecchini neanche uno al cecchino tutte e due erano i cecchini potevano darmi completamente copertura e sono scappati eeeh vabbè eeeh vabbè sto lì anche a impegnarmi per arrivare a diamante con gente che scappa quindi lo stesso rato dei due che prima mi hanno cariato secondo te mmm ottima scelta non è basato sul rateo è quello un problema è basato su non so cosa sul grade basta uno arriva a gradeo uno arriva al grado non può essere basato sul rateo c'ho 08 eh ma infatti non dovrebbe essere così no dovrebbero avere il mio stesso rateo il problema non è quello il problema il problema serio ecco il gioco qua è basato sul rateo non è basato né sulle uccisioni su assist non è basato su un cazzo queste cose su quello che conta di più su quello davvero che conta di più il grado uccisioni assist loro sono basati sul grado e sul rateo ma rateo non conta un cazzo in quel gioco qua perché il rateo puoi fare 0 kill vincere la partita puoi fare 10 kill e vincere una partita o perdere la partita cioè non è non deve essere contato così devono regolare bene su queste cose ah il must if lo depotenziano lo nerfano e non poco no no sto cazzo a pallettone fa 13 lo nerfano a 11 questo significa che secondo me tutto il colpo forse farà 80 90 e non più 110 come prima ed è tanto vecchio eh e quello è niente gli hanno aumentato anche il rateo nel senso da da 1 è passato no è diminuita da 1 è passata da 1 e 1 cioè da 1 secondo che sparava cioè spara poi un secondo poi spara di nuovo è passato da 1 secondo punto 1 quindi spara aspetti un secondo e 1 poi spara aspetti un secondo e 1 che secondo me è poco perché un secondo è un decimo non è tantissimo esatto però il danno vecchio da 13 a traendo da 13 a 11 sarà un bel cambiamento eh guarda 2 punti danno a pallettone ma no nemmeno secondo me nemmeno perché fai un pallettone invece di fare 13 fa 11 quindi calcolare quanti sono i pallettoni che io non so perché non riesco a contarli però sicuramente farà forse 80 secondo me critico 80 critico secondo me farà 80 eh beh ci sta vecchio cioè è troppo esagerato il 9 marzo aspetta ma l'aggiornamento in realtà ui minchia lo stava pigliando col cecco l'aggiornamento non so se fanno anche il cambio delle armi probabile però da quello che ho capito cambia anche la mappa perché il 9 marzo no sto cazzo non cambia la mappa c'è ancora 16 giorni ancora due settimane ci sono ah non cambia la mappa c'è l'aggiornamento per le giustate cose comunque si fa un bene così almeno le armi sono equilibrate anche se io non capisco la gente che dice ma è meglio questo o meglio l'altro sono tutte uguali cioè a differenza di un danno con l'altro non cambia tanto perché quello che conta di più è come le armi le usi cioè anche un triple take da vicino può uccidere una persona bisogna vedere se sai sparare bene perché è capito se tutti dicono anche su facebook qual è l'arma migliore da vicino secondo voi non ce n'è una da vicino migliore no perché anche l'area 99 ti può fare lo stesso danno colando da terra vedremo 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 quando la gente lo userà io voglio provarlo prima in poligono perché voglio essere sicuro oh vedremo che sia adesso in questo momento più facile da usare questo è vero perché il must ok che se non spari in testa non gli fai tantissimo danno ma se gli spari in effetto puoi fare dai 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 30 ai 70 di danno ed è tanto ed è tanto davvero è stato eliminato va bene ah tu ci incontrò ho il guggile tutto quello che smacca tutti mi sa che perdo punti sta martita mi ha sparato uno al volo con il triple take vecchio piacere godimento anche il caos di cloni fanno anche tanto, la super da due due secondi adesso è aumentata e prima di rifarsi ci sono 3,5 secondi sono i 3,5 minuti sono i 3,5 minuti sono i 3,5 minuti 270 chilometri quadrati di iceberg 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 170 chilometri quadrati di iceberg 170 chilometri quadrati di iceberg 270 chilometri quadrati di iceberg 270 chilometri quadrati di iceberg 170 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 litri quadrati di iceberg 170 chilometri 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 quadrati di iceberg